Tutte le schifezze accadute nel frattempo stanno venendo fuori. E tutti vorrebbero una guida che fosse in grado di squarciare questo senso di oppressione. Qualcuno che imponesse una svolta? Qualcuno che indicasse un nemico, catalizzando così l'attenzione della gente. Il Coralian è il culto di Vodarak? Ciò che non si conosce fa paura. E mi pare evidente che questo principio sia già stato messo in atto.